Grazie cari amici del canale YouTube con questo secondo contributo di giornata, oggi martedì la squadra ha ripreso ad allenarsi, ovviamente ci stiamo avvicinando sempre di più al rientro in campo contro la Fiorentina, sabato sera a San Siro, però è anche vero che arrivano delle dichiarazioni importanti, quindi le commentiamo insieme, anzi scrivete il vostro commento per capire da che parte state, per capire il vostro punto di vista, insomma mi fate comprendere la vostra posizione sulle notizie che daremo in questo video. Io comincerei dalle parole molto belle da parte di Olivier Giroud che ha parlato del suo rapporto con il Mian ma soprattutto del contratto in scadenza, perché voi sapete che Olivier Giroud che ha già compiuto 37 anni va in scadenza di contratto al 30 giugno. Quindi da capire praticamente se da qui a fine stagione il club rinnoverà e prolungherà di un'altra stagione il contratto all'attaccante francese oppure le due strade si divideranno, quella di Giroud e il Milan. Ditemi la vostra, fatemi sapere se siete favorevoli o meno ad un rinnovo di Olivier Giroud. Vi dico che al momento, come vi stavo dicendo ormai da diverse settimane, Giroud non è stato ancora contattato e chiamato dal Milan per prolungare il contratto. Questo non vuol dire che il Milan non ha intenzione di allungare il contratto all'attaccante francese, anzi c'è grande stima, rispetto nei suoi confronti. Ma proprio perché si tratta di un giocatore di 37 anni e siamo ancora a novembre, l'idea del club è quella di attendere comunque la primavera, di attendere ad esempio marzo-aprile per decidere insieme al giocatore se proseguire insieme anche in base a come si sente, a come sta Olivier Giroud. Certo, visto quello che sta facendo l'attaccante francese sia con il Milan sia con la nazionale francese, viene da dedurre facilmente che il giocatore sta ancora molto bene fisicamente. D'altronde Olivier Giroud ha 37 anni e già a quota 7 in Serie A col Milan, quota 40 gol con 100 presenze in rosso-nero e ovviamente si sente ancora bene. Ora mettiamo un attimo da parte le due giornate di squalifica dove purtroppo il Milan non potrà contare su Olivier Giroud, però è un giocatore che fa ancora la differenza. Sul futuro al Milan, lui dice, mi piacerebbe restare, quindi già qui fa capire che Giroud vuole proseguire la sua avventura con la maglia del Milan perché, sapete, c'erano state anche delle proposte dall'estero, dalla MLS, dall'America, dall'Arabia Saudita, quindi dal campionato arabo, però lui le ha rifiutate queste proposte, anche a livello economico molto più ricche, però al Milan è un'altra storia, al Milan si trova benissimo. Lui dice, mi piacerebbe restare, sono in scadenza di contratto il prossimo giugno ma non ho ancora parlato con il club, a differenza di quanto si dica in giro. Voglio continuare e credo di avere le carte in regola per farlo, per aiutare la squadra, quindi Olivier Giroud si sente ancora in forma e ha ancora le carte in regola per aiutare la squadra. Posso essere ancora utile a questa squadra, ero già un tifoso del grande Milan degli anni 2000, per me è stata una benedizione entrare a far parte di questo club, quello che ho ottenuto nella mia carriera va ben oltre i miei sogni da bambino. Ricordiamo che Giroud ha vinto anche un mondiale, la Champions League, lo scudetto con diverse squadre. Non ho rimpianti, rifarei esattamente le stesse cose, dice Olivier Giroud. Comunque giocatore che è molto legato al Milan, dice ovviamente che vorrebbe vincere la seconda stella con la maglia del Milan, però è ovvio che il campionato è molto molto acceso, c'è l'Inter più otto in questo momento, quindi non è facile vincere la seconda stella con la maglia del Milan, ma Olivier Giroud lotta in campo per riuscirci. Poi c'è stata, cari ragazzi del canale, una bella prima intervista da parte del nuovo responsabile del settore giovanile rossonero Vincenzo Vergine, che ha parlato a Milan TV. Perché molte volte si parla di giovani, i giovani però bisogna coltivarli in casa, i vari Camarda sono giocatori che vanno fatti crescere con serenità, vanno fatti maturare, migliorare e poi portati in prima squadra. L'obiettivo è sempre quello, l'obiettivo del settore giovanile non è vincere i tornei, quello è una conseguenza, l'obiettivo principale è formare i giocatori e passarli in prima squadra, cosa che il Milan negli ultimi anni ha fatto veramente poco, lo aveva fatto con Donnarumma, lo aveva fatto con Calabria, con Pobega per esempio, che comunque ha vissuto il settore giovanile rossonero, già Tonali, italiano e tifoso del Milan, ma era stato preso dal Brescia, non dal settore giovanile. Quindi Vincenzo Vergine alla sua prima intervista dice è un grande onore per me aver ricevuto la chiamata di uno dei club più importanti al mondo, ovvero il Milan, per uno dei progetti più ambiziosi al mondo, cioè il primo grande obiettivo di un grande vivaglio è quello di formare in casa le risorse per la prima squadra, significa mettere in piedi uomini e anche donne che lavorano a questo progetto con una visione unica, con il calciatore al centro del progetto, aiutandolo a performare e a migliorare. Tutti devono avere chiaro l'obiettivo, dirlo è semplice, farlo sarà sempre una missione ambiziosa. Quindi l'obiettivo dichiarato del Milan con l'arrivo di Vincenzo Vergine è quella di formare in casa nel settore giovanile del Milan le risorse per la prima squadra. Ci riuscirà la squadra rossonera, ci riuscirà Vincenzo Vergine, non è sicuramente un percorso facile. Poi per esempio sugli allenamenti, un punto di vista di Vincenzo Vergine dice non ci si allena mai abbastanza, non ci si allena abbastanza, c'è poca attività motore a livello generale, quando reclutiamo i calciatori li portiamo a un regime in cui ci alleniamo poco, ma di più non possiamo fare, serve allenarsi di più e meglio. Noi abbiamo avviato un programma dedicato, ringrazio i miei collaboratori perché hanno scelto e soprattutto hanno ascoltato le mie idee, ha detto Vincenzo Vergine, che ovviamente ha parlato anche dell'approccio che ha avuto con il nuovo settore giovanile del Milan, dice un approccio scientifico, oggi abbiamo strumenti e parametri per ridurre le variabili che incidono sulla formazione dei calciatori e non bisogna essere scienziati, il calcio non è una scienza ma deve essere, ma deve utilizzarle queste scienze tutte per rendere il calciatore migliore. Detto questo ragazzi noi ci aggiorniamo nella giornata di domani per fare anche un punto sulla probabile formazione a questo punto che il Miena può schierare in campo sabato sera contro la Fiorentina, pure perché oggi è martedì 21, domani mercoledì 22 e sabato si gioca, quindi i giorni sono sempre meno per preparare la sfida contro la formazione viola. Vediamo se Stefano Pioli verte sul tridente leggero formato da Ciucuez e Pulisic e Okafor oppure tirerà in ballo Luka Jovic che comunque non è stato convocato in nazionale, quindi ha avuto tutto il tempo di lavorare a Milanello insieme a Stefano Pioli in questa sosta, sperando che prima o poi si sblocchi anche lui ex giocatore della Fiorentina, quindi magari avrà anche qualche motivazione in più per scendere in campo, lo vedremo nelle prossime ore. Un caro saluto, un caro abbraccio a tutti voi amici del canale, come sempre vi invito ad iscrivervi, mettere like, attivare la campanella e a commentare queste dichiarazioni che abbiamo portato in questo contenuto video della giornata di oggi. Ciao!